Contenutisticamente io non l'ho detto, vogliamo spiegarle in breve ai nostri amici quella telecamera? Allora, innanzitutto vorrei spiegare che questo è un testo che io ho scritto prima, durante e dopo il lockdown e quindi c'è un po' un riassunto di tutta una serie di problematiche legate all'emergenza sanitaria, perché c'è stata l'emergenza sanitaria, perché prima c'è stata quella climatica e probabilmente dopo torneremo a quella climatica perché ci sono tutte queste emergenze. La causa profonda è che l'economia è cambiata negli ultimi 10-15 anni profondamente. È verissimo quello che diceva Cosimo nel suo intervento, però il problema è che finora, all'ombra del liberismo, c'erano, diciamo così, le risorse, cioè le imprese erano in grado di produrre risorse che garantivano i profitti, le rendite finanziarie, pagare i lavoratori, pagare le tasse, pagare gli affitti, pagare le materie prime, i fornitori, eccetera. Piano piano non ci sono più le... oggi l'economia è cambiata in questo senso, perché a parte una minoranza di imprese, anche grandi, anche grandissime, che continuano ad avere profitti, poi non pagano nemmeno le tasse, mentre le pagano solo le piccole, che non fanno i profitti, ma in tutto questo marasma il problema è che la società moderna ha delle esigenze, soprattutto in termini di servizi di cura delle persone, dell'ambiente e del patrimonio esistente, che non possono essere approntate, perché il loro fatturato sarebbe più basso del costo, quindi non ce n'è per pagare i lavoratori, non ce n'è per fare i profitti, non ce n'è per pagare le tasse e poi si devono pagare, e quindi figuriamoci, pagare le rendite finanziarie e gli affitti immobiliari e tutto il resto appresso, questo è il problema della società. E come si risolve questo problema? Secondo il testo che ho presentato recentemente alle stampe, cioè all'ombra delle emergenze, si risolve secondo due percorsi, la reintroduzione di moneta non a debito dello Stato, che può finanziare la differenza fra il fatturato e il costo, e una profonda rivisitazione del credito bancario, per cui lì parlo della nuova contabilità bancaria. Queste due soluzioni che io ho molto spiegato e semplificato, però hanno un ostacolo che spiazzerebbero, se praticate, risolverebbero i problemi, ma se praticate spiazzerebbero, oltre ogni ragionevole dubbio, il potere delle grandi centrali finanziarie che hanno dominato il mondo in questi ultimi migliaia di anni di economia del debito. Quindi l'economia del debito non regge più, questo è il problema, ma per uscircene dobbiamo introdurre delle riforme che spiazzerebbero i padroni dell'economia del debito. Ecco perché bisogna avere continuamente delle emergenze per aumentare i debiti, che non si sa che fine faranno, che siano ambientali, e se non va bene la Greta Thunberg, poi dopo se ne troverà un'altra, molto più forte, che è stata quella sanitaria, e dopo quella sanitaria, perché anch'essa ormai si sta sgonfiando, ne dovranno trovare delle altre. Questo è il motivo per cui ci sono queste emergenze, questo è il motivo per cui o ci riappropriamo della politica per imporre quelle due soluzioni che dicevo, una profonda rivisitazione del credito bancario e l'immissione di moneta non a debito sovrana da parte dello Stato, oppure non ci sarà storia, perché non potremo risolvere nessuno dei problemi e avremo forse anche una concomitanza di deflazione e disoccupazione da una parte, inflazione e scarsa capacità di acquisto dall'altra, che come si sa è la via maestra del disastro. Contro il disastro bisogna organizzare una politica, una politica diversa, non a quello a cui stiamo assistendo, ma purtroppo è lì, lì ci sono due grandi limiti, due grandi limiti. Il primo siamo noi, noi che ci opponiamo a questo sistema, non riusciamo ad unirci, ce la mettiamo tutta, però non riusciamo a superare i nostri egocentrismi, i nostri narcisismi, i nostri io preponderanti, e allora rimaniamo lì senza riuscire a combinare le cose. La seconda è il discorso delle soluzioni, qui ha voglia di fare analisi, siamo diventati tutti bravissimi a fare analisi, sanitarie, economiche, finanziarie, politiche, sociali, eccetera. Qui dobbiamo cominciare, qualcuno deve cominciare, a indicare delle strategie, delle cose da fare per uscire da questa situazione. Allora in generale, secondo me, qui non si tratta né di fare scioperi fiscali, che metterebbero in conflitto dipendenti pubblici e pensionati da una parte, dipendenti privati e imprese dall'altra. Non è inutile fare la disobbedienza civile e cose che poi rischiano di essere strumentalizzate e di finire in quel bagno di sangue di cui si parlava prima. Qui quello che noi dobbiamo fare è andare contro il sistema. Allora cosa vuole il sistema? Il sistema sta distruggendo l'economia perché non può più dare soluzioni. Allora noi dobbiamo ricostruire l'economia, partendo dal territorio, partendo dal locale, partendo dalle nostre capacità produttive. Seconda cosa, il sistema ci vuole gli uni contro gli altri. Noi dobbiamo invece fare una pacificazione strategica, dobbiamo tendere la mano anche a quelli che ci schiaffeggiano perché siamo contro i vaccini, o perché siamo contro le mascherine, o perché siamo contro i green pass. Ecco, questo dobbiamo riuscire a fare. Se riusciamo ad attuare queste due strategie, noi diamo le soluzioni, rispondiamo a quella atavica domanda che fare e in questo modo cominciamo a costruire l'alternativa. Però mi chiede un telespettatore, Nino, che come allievo del grande Federico Caffè è stato compagno di studi di Mario Draghi. Cosa ne pensi di Draghi, premier, mi chiedono? È dell'ipotesi di Draghi al Quirinale? Allora, chiariamo una questione. Mario Draghi era considerato dal comune maestro l'allievo migliore, tant'è che gli aveva affidato la tesi di laurea più importante, cioè quella sulla sostenibilità della moneta unica europea. E la tesi di laurea di Draghi, che io ho avuto in mano, ma purtroppo non è che ce n'ho una coppia, sosteneva, oltre ogni ragionevole dubbio, che la moneta unica europea non era né auspicabile né sopportabile. Quindi, dopodiché poi Draghi a un certo punto ha abbandonato la nostra scuola e Caffè mi disse che ci ha abbandonato, Draghi ci ha abbandonato. E ha fatto la sua carriera all'ombra di certe multinazionali, in primis Goldman Sachs. Poi ci siamo ritrovati, perché io sono stato nominato un po' prima di lui direttore generale al Ministero del Lavoro, per difendere l'occupazione, e lui direttore generale al Ministero del Tesoro per avviare le privatizzazioni, quindi esattamente il contrario. Ora, in pratica, perché Draghi va a fare il Presidente del Consiglio dei Ministri con la prospettiva di andare a fare il Presidente della Repubblica? Perché lui scrive un articolo sul Financial Times che nessuno gli aveva chiesto, quindi si è preso gli strali dei suoi mandanti, perché non ci si deve mai permettere, rispetto a certe masonerie, di prendere delle iniziative, tanto che io al Ministero sono stato testimone di due omicidi, quello di Marco Biaggi e quello del Professor D'Antona, i quali volevano prendere il posto di Gino Giugni senza averne avuto l'autorizzazione dalla massoneria. Pazzesco. Ecco, allora che fa Draghi? Fa questo articolo e dice signori, non ce l'ambicchiamo il cervello, aumentiamo il debito per uscire dall'emergenza, quando è finita l'emergenza, come si fa durante le guerre, si cancella il debito. E intanto gli brucia la casa a Città di Castello. E vabbè, un caso. Poi invece questa cosa viene appoggiata e Draghi viene a fare il Presidente del Consiglio dei Ministri, mettendo la faccia a favore dell'Italia che doveva indebitarsi e poi dopo come premio finale avrebbe avuto la Presidenza della Repubblica. Ma in tutto ciò Draghi compie quello che io considererei un grave errore, ma che probabilmente non è un errore. Comunque cosa fa? Invece di indebitarci con la BCE che alla fine avrebbe retrocesso il nostro debito alla Banca d'Italia che sarebbe stato cancellato, come sempre accade quando il debito viene retrocesso, parliamo del capitale principale, viene retrocesso, perché Malvezzi parlava degli interessi, viene retrocesso alla Banca Nazionale, invece cosa fa? Ci indebita con l'Unione Europea. Che cosa significa indebitarci con l'Unione Europea? Che nella migliore delle ipotesi noi dovremmo pagare fino all'ultimo centesimo. Nella peggiore, che è la più probabile, di cui sempre Valerio stava facendo una sintesi, avremo dei condizionamenti perché non siamo buoni pagatori, siamo cattivi, siamo italiani, siamo inaffidabili, eccetera, eccetera, per cui dovremmo dargli i porti, le mogli, le ferrovie, i valichi alpini, qualunque cosa a garanzia. A questo punto la sua salita al colle Quirinale è in dubbio e quindi chiaramente molti dicono, giustamente, che lui non possa lasciare la presidenza del Consiglio perché sennò si scatenerebbe in anticipo questa ondata speculativa contro l'Italia che rimetterebbe in discussione il futuro delle strategie della BCE. Quindi, ecco, questo è stato, insomma, penso di avere risposto. Quindi, in teoria, non dovrebbe andare a fare il Presidente della Repubblica, in teoria dovrebbe essere riconfermato un Mattarella che poi, con le elezioni, dovrebbe ritornare, dovrebbe dimettersi, dice adesso c'è una nuova maggioranza perché certamente non ci saranno tutti questi 5 Stelle, non si sa come andranno gli altri partiti, probabilmente Renzi e PD reggeranno, la Lega non lo so, la Meloni non lo so, ma i 5 Stelle giustamente incasseranno il prezzo del loro tradimento.